Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Panit, io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e mi trovo qui con Margherita. Ciao Margherita! Ciao a tutti, ciao Rossella! Margherita ha partecipato al percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce e qui per lasciare la sua testimonianza. Margherita raccontaci un po' come è andata. Posso dire per quanto riguarda la mia esperienza che è stato un corso bellissimo frequentato da me e da altre ragazze con la stessa energia, la stessa lunghezza d'onda, dalla stessa sintonia. Mi ha emozionato molto, ho partecipato con grande interesse ed entusiasmo a questo corso. Che bello! Ascolta, come è stato per te accedere a questo campo di luce delle nuove frequenze? Raccontami. Non è stato particolarmente difficile in quanto io provengo da un corso di Reiki fatto moltissimi anni fa da Reikista, però è un corso che consiglio vivamente a tutti, anche a chi non si è mai connesso con le frequenze di luce, perché in realtà sono energie innate che abbiamo dentro di noi e che grazie a Rossella, che trovo estremamente umana, professionale, preparata, si ha modo di poter accedere e iniziare un percorso continuarlo. Margherita, tu che effetto hai avuto? Che risultati puoi aver avuto, personali o su altre persone? Dimmi un po'. Su di me personalmente, in quanto ero anche in un momento abbastanza difficile della mia vita, quindi su di me è stato estremamente importante, ho visto lo sciogliersi di innumerevoli blocchi ed è stato qualcosa di incredibile, perché per quanto provengo dal mondo del Reiki, questo è tutto un altro tipo di esperienza veramente importante che consiglio davvero a tutti, quindi su di me dei risultati molto importanti. Dall'inizio del corso ad adesso ho avuto modo di trattare una decina di persone, tra amici, amiche e familiari e anche a livello fisico, guarigione, se così possiamo dire, dal mal di testa, che per quanto possono sembrare problemi semplici, quando sono continui nel tempo, anche il dolore lombare per esempio, diventano anche invalidanti, quindi già dalla prima sessione, senza dir nulla perché noi dobbiamo essere operatori imparziali, in modo anche da non condizionare gli altri, quindi già dalla prima volta dei bellissimi risultati, sia fisici che emotivi, sia su me stessa che sugli altri, quindi è un corso che posso consigliare vivamente a chiunque voglia mettersi in gioco e riscoprire anche alcune parti di sé, perché per essere canali puliti bisogna lavorare neanche tanto su se stessi. Assolutamente, veramente, io ti ringrazio Margherita, le tue parole sono state illuminanti, spero che possa arrivare alle persone che col cuore stanno ascoltando questa tua testimonianza. Ti ringrazio e ci sentiamo presto, un bacione a te. Grazie Rossella, al prossimo corso insieme, non vedo l'ora. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.